Prima TV e Tele Nostra aderiscono alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione sull'epatite C promossa dall'associazione Epac Onlus da oggi 3 febbraio al prossimo 20 febbraio. Le nostre emittenti televisive hanno ritenuto doveroso accogliere la richiesta di supporto dell'associazione per sensibilizzare i nostri telespettatori nel contribuire a questa importante battaglia per la salute. La campagna che si chiama Vogliamo Zero Epatite C durante la quale, come spiega l'associazione Epac, ha l'obiettivo di informare i cittadini sulla possibilità di ottenere cure risolutive ed efficaci quasi nel 100% dei casi. In occasione della campagna verrà attivato il servizio di SMS solidale a sostegno di tutte le attività dell'associazione e nello specifico per l'attivazione di un numero verde. La campagna Vogliamo Zero Epatite C ha il patrocinio della Lega Calcio di Serie A e sui campi di gioco nella ventitresima giornata di campionato sarà veicolata su tutti i mezzi di informazione supportata da uno spot istituzionale e da video appelli realizzati grazie all'impegno e sostegno di Epac di numerosi testimonial. Il capitano del Milan è centrocampista della Nazionale Montolivo, l'attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana immobile, l'allenatore ed ex calciatore Crespo, il campione olimpico Oro nel Fioretto a Rio 2016 Garozzo, il giornalista sportivo Di Marzio, l'attrice Grandi e la conduttrice e scrittrice Lambertucci. Lo spot istituzionale della campagna Vogliamo Zero Epatite C e i video appelli dei testimonial saranno trasmessi sulle nostre emittenti televisive Prima TV e Tele Nostra per tutta la durata dell'iniziativa.